Carissimi tutti, carissime tutte, ben ritrovati e ben ritrovate ancora una volta sul mio canale. Oggi andiamo a presentare una new entry, almeno per voi, un nuovo e meraviglioso fluido o essenza spirituale che si chiama Essenza 18, oppure dei 18 poteri, perché ha 18 azioni. È un'essenza veramente particolare, ho voluto presentarla anche in occasione dell'approssimarsi della festività di Samain, di questo passaggio spirituale nella ruota dell'anno, chiamato anche ovviamente Halloween o Halloween. Comunque non ha a che fare con Halloween, è solamente perché simboleggia veramente una trasformazione nella nostra vita. Essenza spirituale 18, 18. Come vedete, a differenza di altre essenze, già si nota che c'è un colore un po' diverso, un colore scuro, un colore piuttosto scuro. Questo naturalmente è dovuto alla particolare composizione in cui è stata fatta e tramandata. Se vediamo altre essenze che poi voi avete sperimentato come The Gold Water, vediamo che è un'acqua veramente dorata, oppure The Fall of Me, seguimi, ha delle note di rosso e rosa e via discorrendo e via discorrendo. Ma io vorrei parlare adesso dell'essenza spirituale 18 o dei 18 poteri. Questa è una ricetta ovviamente sempre molto molto antica, che ha radici sia nel voodoo e sia nell'udu o udu. Ed è fatta ovviamente secondo la tradizione, con tanto tempo, con tanta passione ovviamente, e soprattutto, questo lo dirò sempre, lo scriverò sempre, perché è giusto che voi lo sappiate, è fatta e prodotta totalmente con sostanze naturali, vegetali, vegane al 100%. C'è solamente una leggerissima base alcolica, sempre naturale, perché è un'alcol che arriva da cereali, per dare una conservazione e anche una forma di, come posso dire, di profumazione più gradevole, più intensa. C'è tutta un'alchimia ovviamente in ogni preparazione, ma questo ovviamente è chiaro, è ovvio. L'essenza 18 è chiamata anche Black Witch, cioè strega nera, proprio perché ha questo colore scuro, non è proprio nero, è un marrone molto molto scuro. Quindi The Black Witch, ma non è una parola cattiva, è semplicemente uno dei tanti nomi. Io preferisco chiamarla con il nome originale di Essenza 18, o Perfume 18, profumo 18, Essenza 18, in lingua inglese. Allora, malgrado il suo colore non macchia e non macchierà né la vostra pelle, né i vostri abiti, anche se naturalmente si consiglia l'uso diretto sulla pelle, proprio come un profumo, come un'essenza normale, un profumo di uso quotidiano. Però adesso arriviamo, direi, a quello che è importante spiegare, alle 18 azioni che ha questa preparazione. Allora, ve le vado proprio a delencare. La prima azione è un riequilibrio della vostra aura, quindi l'aura è il campo energetico. E la seconda azione è un riequilibrio dei chakra, perlomeno i sette chakra principali. La terza azione è quella di infondere forza spirituale. La quarta azione è quella di infondere forza mentale. La quinta azione è quella di infondere energia e forza fisica. E arriviamo alla sesta azione, che è una delle più richieste, ma sicuramente veramente importante anche questa. La sesta azione è quella di dare una forma di grande potere attrattivo in ogni situazione sentimentale, anche ovviamente sessuale, cioè dà il suo asce o la sua energia scanalando, diciamo così, una forza di attrazione verso ovviamente il sesso che vi interessa veramente potente, sia a livello sentimentale, sia a livello fisico. E quindi è un potente attrattivo. E' anche un potente attrattivo per chi ne vuole fare uso a livello di seduzione e di sessualità. E' veramente forte l'azione. E vado avanti con le restanti, perché sono veramente tante ed è anche bello spiegarvele. Dunque, andiamo avanti ancora. Quindi la settima è quella di un forte potere nel campo della sessualità, della forma erotica. Scusate, l'ottava azione è quella della buona sorte, chiamata anche fortuna o apertura delle strade, quindi di un'ottima e buona sorte. La nona azione è rivolta a rimuovere le forme negative che arrivano dalle rivalità in campo sentimentale. Quindi dà una protezione e anche una difesa, un respingimento, di quelle persone, in questo caso rivalità vuol dire persone umane incarnate, rivali o comunque ostacolanti nel campo sentimentale e anche nel campo personale. La decimazione è quella del potere psichico, cioè va a sviluppare il potere psichico, mentale, di sensibilità, essendo creata anche per questo. Del resto, ricordate che si chiama anche The Black Witch, la strega nera. Quindi ha un po' tutti i poteri che può avere una strega, in qualche modo uno stregone, nel senso di una persona risvegliata e cosciente delle proprie infinite possibilità. Perciò la decimazione è quella del potere psichico, del potere personale, di questa aura di potere personale, di questa aura di sicurezza personale. L'undicesima azione è quella di andare a sviluppare molto le proprie naturali abilità spirituali o paranormali, chiamatele come meglio vi pare. Cioè l'uso dell'essenza 18 va ad accentuare molto le vostre abilità psichiche extrasensoriali. Ognuno avrà le proprie, quindi c'è chi è più versato sulla divinazione, c'è chi è più versato nella magia, c'è chi è più versato nella medianità, e possiamo andare avanti all'infinito, c'è chi ha un po' tutte le caratteristiche, va a sviluppare molto anche queste nostre abilità o facoltà sottili. La dodicesima azione è molto collegata, vale a dire che l'essenza 18 amplifica e rende quindi più potente ogni lavoro magico. Cioè dall'incantesimo più semplice alla preghiera, quindi intesa come vero e proprio atto magico, a il cerimoniale o comunque qualunque sia la forma di magia da voi praticata, o di corrente da voi praticata. Quindi va a amplificare, a direzionare in maniera più forte, ad accelerare i vostri lavori magici, spirituali. La tredicesima azione è quella che dà luce, dà freschezza, che esalta la vostra luce, la vostra freschezza personale e la vostra, diciamolo pure, bellezza fisica, cioè le vostre caratteristiche fisiche. Tutti le abbiamo, ovviamente, sono molto soggettive, ma in questa azione c'è proprio quella di un rinnovamento, di un, come posso dire, nel lingua italiana sempre, di andare a far rifiorire il nostro aspetto anche materico, quindi il nostro aspetto fisico, la nostra bellezza, se vogliamo intenderla proprio in senso letterale. La quattordicesima azione è simile, ma va a far risplendere la bellezza interiore, cioè quella spirituale e quella intellettuale. La quindicesima azione è quella di proteggere dalla cattiva sorte, dalle energie negative fondamentalmente. Quindi quale strega, quale mago, stregone, se si può definire così in termini un po' più antichi, non si protegge mai. Tutti, perché viviamo purtroppo immersi in una realtà che può essere bellissima, ma anche a volte o pericolosa oppure densa di incognite, sia da persone incarnate, sia da energie negative, come dico in altri video, derivanti da azioni sottili o addirittura azioni magiche. Quindi proseguiamo di nuovo. Andiamo a parlare della diciassettesima azione e questa è molto, molto bella. Quindi o vi risentite il video o ve la scrivete. È quella dell'esaudimento. Cioè l'essenza diciotto o the black witch perfume va a esaudire i vostri desideri o comunque a dare quel booster, cioè quella spinta astrale nella materializzazione e quindi nell'esaudimento dei nostri desideri, di ciò che noi desideriamo, vogliamo che si manifesti a livello del piano ovviamente in cui viviamo. Perciò possiamo dire che la diciassettesima azione va a potenziare moltissimo quella che è definita la legge d'attrazione. E la diciottesima ed ultima azione qual è? È quella di attrarre la prosperità e la stabilità economica e materica. Quindi vedete, carissimi e carissime amiche, in questa composizione, in questa formula, ci sono una miriade di azioni che agiranno anche in modo, diciamo, automatico e anche in modo direzionato. Perché voi, sapendo ciò che fa questa forma, diciamo, di rituale, perché alla fine, come ripeto anche qui, e l'ho detto altre volte, questo tipo di essenze, di profumi spirituali, chiamateli come volete, perché poi comunque sono profumatissimi, hanno un buonissimo odore fondamentalmente, e quello di andare ad essere anche direzionati in base a ciò che voi, in quel momento, avete mentalmente nel vostro schermo interiore. Quindi, di volta in volta, voi potete anche scegliere qual è l'azione o le azioni che vi interessa di più andare a far manifestare. Quindi, ecco perché vi ho detto anche prima, magari risentitevi oppure prendetevi qualche piccolo appunto risentendo il video, in modo anche da avere, anche per il vostro piacere personale e la vostra conoscenza personale, sotto mano proprio le 18, le 18 azioni che produce questa essenza, l'essenza 18 o The Black Witch. Quindi, una essenza che poi, adesso ora lo dico un pochino sul finire della presentazione, ha una, diciamo, nota olfattiva, io non sono ovviamente una profumiera professionista, anche se mi piace molto il campo, lo confesso, perché credo sia una cosa meravigliosa, ha una nota olfattiva unisex, ma ha una nota olfattiva molto, la parola è molto usata nella profumeria, anche quella commerciale o comunque quella, diciamo, per descrivere la piramide olfattiva dei profumi, molto gourmand. Gourmand è una parola francese, goloso, vuol dire golosa, quindi, è molto dolce e ha delle note estremamente piacevoli, soprattutto poi se amate i profumi dolci, i profumi golosi, eh? Detta un po' così. Vi lascio un po' di sorpresa, perché poi va giustamente provata, testata, e ognuno di voi ne avrà un'esperienza sia magica, sia spirituale, diversa. Ogni persona, anche se ovviamente le azioni ci sono tutte, poi ne avvertirà personalmente, secondo la propria individualità, secondo la propria vibrazione, tutte le varie sfumature, da quelle, dalle note olfattive, da ciò che produce nella vostra vita quotidiana e materica, spirituale, affettiva, sentimentale, magica, perché abbiamo parlato anche di questo. L'uso che se ne fa è quello. Qui l'ho messa in una boccetta un pochino più grande, diciamo così, un pochino anche dal sapore vintage, questa è una boccetta dove stava un'altra essenza e io ho voluto metterla anche qui per farvela vedere anche un pochino meglio, anche se chi avrà appunto la volontà di ordinarla come le altre essenze già presentate riceverà la bottiglietta nel formato di 50 ml quindi riceverete la bottiglietta concentrata come sempre nel formato di 50 ml via posta raccomandata nel caso di acquisti multipli quindi due boccette tre boccette quello che vi pare a voi sarà inviata via pacco sempre tracciato ovviamente la tracciatura è fondamentale indispensabile anche se ci costa un pochino purtroppo però è così per avere la sicurezza di ricevere a casa senza problemi l'essenza o l'essenza o quello che può essere quindi carissime carissime arriviamo come nelle altre presentazioni a ciò che a voi interessa quindi sapere il costo dell'essenza 18 o the black witch la strega nera il costo per singola bottiglia è da 50 ml più le spese di spedizione che sono incluse come sempre è di 50 euro quindi potete ordinarla telefonica telefonando via telefono potete ordinarla anche via whatsapp anche se io preferisco ovviamente parlare a voce ma comunque potete ordinarla al sempre allo stesso numero che non cambia mai e spero non cambierà mai per tanto tanto tempo 334 99 88 437 lo trovate comunque sempre scritto o nelle pagine social o comunque sotto il titolo di ogni video che io pubblico metto sempre i miei recapiti altra cosina se non mi sfugge ne sfuggono tante alla fine la mia memoria ha un po' di falle effettivamente è quella che questa essenza si può usare con grande direi forma proficua effettiva non solo come profumo magico ma anche se voi lavorate a livello di altare e perciò per un uso direzionato che poi decidete voi con tutte le superlettili i materiali di ritualistica quindi le candele i fetici eventuali le bambole i talismani i sacchetti di protezione o comunque di prosperità o di amore o di qualsiasi altra cosa qui ci sono ben 18 azioni oppure i cristalli o quello che voi usate può essere proprio direttamente spruzzata oppure anche presa a gocce e cosparza nei vostri oggetti rituali penso di aver detto tutto carissimi carissime per adesso vi saluto vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia un grande un grande abbraccio un grande bacione scusate un po' veramente se mi sentite a volte con questa voce dove me ne accorgo anch'io sbaglio le parole è un po' la stanchezza che mi porto dietro e quindi perdonatemi se a volte mi impappino tantissimo a tutti e a tutte e ci vediamo nel prossimo video